La prima volta, ogni volta è la prima volta, la prima volta che doni, dona il sangue, la prima volta e per sempre. Damiano Zanon, uno degli ex di turno, una buona prova la tua, è rientrato dopo un turno di squalifica, una buona ternana molto attenta nel primo tempo, una ternana su di giri nella ripresa, la vittoria a nostro avviso sacrosanta. Sì, forse per quello visto nell'arco di 90 minuti abbiamo creato qualcosa in più di loro, molto spesso siamo ripartiti in contropiede, con la nostra velocità non è facile tenerci, quindi loro hanno, diciamo che dietro si sono fatti sentire, ma abbiamo sfruttato le nostre occasioni e siamo contenti di questa vittoria. Damiano, una delle poche partite dove non prende ammunizioni? Sì, è vero, sei stato bravo, già anche essendo un ex ho cercato di non farmi ammunire perché veramente ne ho presi troppo quest'anno. Solo due occasioni per il Frosinone e credo che alla seconda in classifica, che prima di questa partita aveva 26 punti più della ternana, si possano concedere. Bravo nella prima circostanza, resti nell'uscita su Muculu, bravissimo nella seconda circostanza in avvio di ripresa, Meccariello quando lo stesso Muculu ha superato a resti in uscita, ma Meccariello è riuscito ad arpionare il pallone prima che varcasse la linea bianca. Per il resto qualche cross in area, ma nessun tiro vero nella porta difesa da resti. Sì, sì, ma come dicevo prima abbiamo fatto secondo me una buona fase difensiva, ma parte da davanti perché se perdiamo gli attaccanti che fanno pressing sui difensori e giocano facile, diventa tutto più difficile, così il centro campo. E noi dietro siamo quelli lì che dobbiamo cercare di levare il più grande possibile all'interno dell'area di rigore. Su quelle due occasioni sono stati brevi arresti Meccariello, ma credo che nel complesso la squadra ha fatto una grande prestazione a livello difensivo e a livello offensivo. Tra l'altro, quattro vittorie consecutive in casa, 2-1 col Trapani e va bene, era l'esordio di liberare in panchina, 4-1 con l'Avellino e va benissimo, ma le ultime due partite le vincete senza subire gol. Parlo di quella di oggi, 2-0 al Frosinone, parlo di quella della penultima contro la Salernitana. Anche questo è un segnale importante. Sì, sì, è il sintomo che adesso sicuramente corciamo più in avanti, quindi leviamo profondità e quindi è normale che si attacchi in avanti e dietro rischi di meno. Prima si schiacciavamo un po' troppo e lo facevamo dall'inizio dell'anno, adesso con il mister stiamo lavorando, ci sta dando tante sicurezze e credo che il lavoro ci stia portando dei risultati importanti. Da classifica, seconda pari merito contro del Sultima, in campo direi che questa disparità dei valori non si è affatto vista? Se andiamo a leggere molto probabilmente l'organico del Frosinone credo che sia da primato, perché basta dire sostituzione, c'è Frara, entra Fiammozzi, c'è, non mi ricordo se San Marco è entrato Soddimo, insomma, è entrato Ciofani. Ci sono sicuramente delle, sulla carta sono molto, molto forti. Sulla partita secca sicuramente noi abbiamo dimostrato che nessuna squadra è imbattibile, il mister ce l'aveva già detto prima della partita e noi abbiamo cercato di fare quello lì che ci aveva chiesto e ci siamo riusciti. Ecco, però una ternana completamente diversa da otto partite fa, no? Cioè una ternana con un piglio proprio opposto, cioè quindi con più consapevolezza dei propri mezzi. Sì, ma lo ripeto, su questo punto di vista bisogna fare i complimenti al mister, perché molto probabilmente prima non avevamo queste certezze, non eravamo liberi mentalmente, c'è stato un periodo che eravamo veramente quasi spacciati secondo me. Poi dopo è arrivato il mister e devo fargli un'altra volta i complimenti, ma penso che i complimenti vado da parte mia, ma da tutto il gruppo, perché ci ha dato veramente una, siamo una formazione in questo momento sa fare calcio, sappiamo quello che dobbiamo fare in mezzo al campo, ci difendiamo, attacchiamo tutti quanti insieme e credo che questo è il merito, non è nostro, ma è il merito del mister. Senti, c'era stata anche una proposta di rinnovo, no? Da parte del direttore sportivo nei tuoi confronti, ecco, qual è la tua decisione? Sei ancora deciso oppure no? No, io non, la proposta mi è stata fatta, ci siamo, ve l'ho già detto, ve l'ho già comunicata, la mia risposta la società la sa, ma rimango sempre disponibile a parlare, perché qui sto benissimo. Non c'è stata una contro proposta? No, non c'è stato niente, non è un problema, io sono a disposizione della società fino alla mia scadenza del contratto, dopodiché è normale che se non ci saranno, il marimonio si fa in due, se non ci sarà possibilità di rinnovare qui, mi guardano intorno, è normale che la prima squadra alla quale voglio dare l'opportunità di rinnovare è la Ternana. Ti piacerebbe fino a vivere a qui a Terni? Beh sì, a 34 anni credo che ci siano le situazioni giuste per poterlo fare, però ripeto, i marimonio si fanno in due, magari non si vogliono fare, lo so, vabbè. Prima parlavi della crescita tattica della squadra, allora, D'Amblè uno guarda la partita di oggi, vede che la Ternana cresce col passare dei minuti, chi chiude sempre meglio, riparte, e oggi faceva anche abbastanza caldo i liberati, e allora pensa ad una buona condizione atletica che sicuramente c'è, ma tu sottolineavi giustamente anche la crescita tattica complessiva della squadra, questa capacità di aggredire alti che poi di fatto aiuta, agevola anche la fase difensiva. Sì, ma lo ripeto, il lavoro che facciamo in settimana è quello lì che vedete oggi in mezzo al campo, perché se noi riusciamo ad accorciare in avanti, cerchiamo i difensori accorciano verso il centrocampo e il centrocampo accorcia verso l'attacco, la squadra è corta e facciamo meno fatica ad aggredire, facciamo meno fatica anche agli attaccanti avversari che ci devono seguire loro a noi e non noi a loro, quindi è normale che per un attaccante fare dieci volte sopra e sotto, sopra e sotto, sopra e sotto sono navette e l'attaccante è un po' pigro, quindi si stufa e quindi diventa tutto più facile, è normale che questo qui lo devi provare, lo ripeto per unesima volta, il primo merito che va dato va dato all'allenatore e poi va dato merito a questa squadra che si è messa a disposizione, ha capito che la situazione alla critica e oggi vogliamo tolgerci la soddisfazione di regalare questa salvezza a questa squadra Certo, una grossa iniezione di fiducia alla vigilia della trasferta di Brescia, anche perché si gioca martedì sera questa quarta vittoria consecutiva in casa Sì, sì, ma i punti sono importanti dappertutto perché che sia in casa o fuori casa noi dobbiamo cercare, abbiamo bisogno di punti dappertutto, quindi da adesso alla fine ci sono altre cinque partite, cinque finali, cerchiamo di affrontarle con il maggior piglio migliore, cerchiamo di dare il massimo per portare a casa più punti possibili Grazie, in bocca al lupo Grazie